Grazie a voi, grazie a voi e buonasera. Sono molto contento di questo incontro perché, come potete capire, i libri si scrivono per far camminare delle idee, soprattutto per far girare delle idee, per mettere insieme persone che le condividano, perché fare una critica al controriformismo di sinistra non è una cosa semplice, si tratta di convincere un sacco di persone, si tratta di condividere delle analisi. Quindi davvero grazie, per me è una grande soddisfazione. Io devo stare in un tempo breve, quindi sarò molto schematico, mi scuso di questo, non sarò analitico, però prima di tutto vorrei precisare due concetti fondamentali, cosa intendo per riforma e cosa intendo per controriforma. È importante capirlo. Per me, per controriforma, è qualcosa che peggiora le cose, è qualcosa che non è coerente ad un disegno, è qualcosa, tra virgolette, che peggiora un diritto. Faccio un esempio. La riforma del titolo quinto non è una semplice riforma della Costituzione. Per me è una controriforma, perché da quella controriforma il sistema sanitario, ma non solo il sistema sanitario, è peggiorato enormemente. E chi ha patito le peste di questo peggioramento sono i cittadini. Ecco, la riforma invece è un pensiero progressivo, un pensiero che evolve, che sviluppa, che, tra virgolette, esplora, che inventa anche. Non è facile avere un pensiero riformatore. Ve lo dico per esperienza, sono un riformatore convinto da tanti anni. Bisogna lavorare tutti i giorni, bisogna perfezionare il pensiero, bisogna, tra virgolette, cercare le soluzioni, bisogna studiare molto. E secondo me a sinistra si studia poco, alla fine, almeno per quanto mi riguarda, mi sono reso conto di questa cosa. Allora, detto ciò, la prima cosa che voglio chiarire è perché ho scritto questo panflete. È un piccolo libro, non è un grande libro. L'ho scritto per due ragioni che, a parte, sono state ampiamente anticipate da Mariangela. La prima cosa, mi sono reso conto che le criticità che ci sono nel sistema sanitario pubblico stanno peggiorando. Cioè, le cose non vanno bene. Io parto da un principio di realtà. Le cose non vanno bene, le disuguaglianze aumentano, il processo di privatizzazione continua a crescere, la sanità pubblica ha sempre più problemi e i rischi non vengono meno. Mariangela citava il regionalismo differenziato nella recente nota al DEF che è stata fatta, di notte hanno aggiunto il regionalismo differenziato. Che è una cosa che voglio rimarcare per una ragione molto semplice. Perché a certa gente neanche 20 pandemie servono per far capire loro che serve uno Stato centrale, che serve uno Stato che governa certi processi, eccetera, eccetera. Quindi esistono tante criticità. La seconda preoccupazione, il secondo motivo per il quale ho scritto questo pamflet è che è uscito il PNRR. Cioè è uscita la nostra risposta alla pandemia ed è un PNRR che ha molto poco di riforma. È molto tentato invece da alcune cose di controriforma. Quindi mi preoccupa che noi diamo una risposta inadeguata alla pandemia. La pandemia, come voi sapete, ha avuto il pregio un po' di dire la verità su come stavano le cose. Lo sapevamo già come stavano le cose. Non avevamo bisogno della pandemia. Però la pandemia è stata un'evidenza inconfutabile. Ecco, queste sono le due cose dalle quali sono partito. Per esempio nel PNRR, una cosa che mi ha molto colpito, ho tra l'altro detto incidentalmente, abbiamo un ministro della salute che è di articolo 1. Cioè un ministro della salute che è di sinistra. Nel PNRR non c'è un solo accenno alla necessità almeno di contenere il processo di privatizzazione. Non dico di sconfiggerlo, contenerlo. Noi abbiamo un sistema assicurativo che è incentivato dallo Stato, per ricevere gli incentivi fiscali. Io ho fatto una battaglia, andata male evidentemente, per dire almeno togliamo questi incentivi. Non dico di ritornare alle 8.33, ma non c'è verso di passare da questa cosa. Ecco, queste sono le ragioni. La tesi politica fondamentale di questo libro, qual è? È che nella sanità, lo sanno tutti coloro che ci stanno ascoltando, esistono indubbiamente delle criticità oggettive. Nessuno lo discute. che la spesa è destinata ad aumentare. È un dato oggettivo. Che la domanda di salute cambia. È un dato oggettivo, vuol dire ci sono delle criticità oggettive. Io mi sono convinto, non solo con questo libro, sono tanti anni che mi occupo di queste cose, che però mi colpisce una coincidenza, che tutte le principali criticità del sistema sanitario hanno a che fare con scelte politiche sbagliate. Quindi hanno a che fare con la politica. Cioè, il tentativo di questo libro era un po' di non dispostare l'attenzione dalle criticità oggettive alla politica, ma di mettere al centro, diciamo, della nostra riflessione, il ruolo della politica, le capacità della politica, la capacità di scegliere da parte della politica, perché purtroppo le principali, ripeto il concetto, le principali criticità che abbiamo nel sistema sanitario pubblico derivano da errori del passato. Faccio un esempio. Abbiamo le disuguaglianze in crescita. Le disuguaglianze sono state create dalla riforma del titolo quinto e la riforma del titolo quinto non è capitata dal cielo. È stata una scelta. Mariangela faceva anche un riferimento politico preciso. Abbiamo una situazione ospedaliera, Chiara Rivetti lo sa meglio di me, piena di problemi. Abbiamo crisi negli organigrammi, non troviamo più i medici. Soccala Now su questa cosa insiste un giorno sì, un giorno pure, perché si pensa ad una sanità senza operatori. Si vogliono aumentare le tecnologie, fare i terrestri strutturali senza operatori. Aumentare i posti letto nelle intervenzioni. Voglio dire, ci sono delle criticità che dipendono appunto da scelte politiche sbagliate. Noi abbiamo le criticità degli ospedali, ma che vengono fuori da politiche di deospedalizzazione che sono durati anni. Il PNRR ci ripropone il DM70, la Rivetti conosce benissimo di cosa parla, che è un regolamento, signori, che dopo una pandemia continuano a mantenere gli ospedali come erano prima della pandemia, con qualche piccolo ritocco alle terapie intensive, semi-intensive. Allora, il concetto lo ripeto. La mia impressione è che i problemi più grandi della sanità siano di derivazione politica. cioè i problemi oggettivi della sanità si risolvono a certe condizioni. Se non ci sono queste condizioni, probabilmente non solo si risolvono, ma si complicano, si complicano enormemente. Qual è l'altra tesi principale? Sto proprio schematizzando del libro, perché ho ricostruito questi vent'anni, perché tra Labindi e Speranza sono vent'anni, grossomodo, la riforma della Labindi era del 99. E ho scoperto che non solo c'è una responsabilità della politica, ma nella politica c'è, e questo mi riguarda da vicino, perché io mi considero un intellettuale di sinistra da sempre, nella politica c'è un ruolo preciso della sinistra di governo. Cioè, quando dico ci sono responsabilità legate alla politica, dovrei dire, ci sono responsabilità legate in particolar modo alla sinistra di governo, perché certe decisioni sono state prese dalla sinistra di governo. Si citava De Lorenzo, ma nel 99 Labindi, che non è certamente una persona non di sinistra, ha ribadito le contro-riforme del 92, anzi addirittura le ha peggiorate, secondo me. Ecco, quindi voglio dire, e quando parlo di sinistra di governo, parlo di una sinistra estesa. Mariangela parlava di De Lorenzo, De Lorenzo ha fatto la contro-riforma nel 1992. Nel 92 De Lorenzo mette le, inventa, contro-riforma le usle e fa le aziende. Ma le aziende di De Lorenzo erano state già attuate in Emilia-Romagna, erano già state sperimentate in Emilia-Romagna e l'Emilia-Romagna ha avuto un grande ruolo. Quando parlo di sinistra di governo estesa, intendo questo. Non intendo solo il Partito Nazionale, intendo anche le regioni che sono state amministrate dalla sinistra. E questo mi ha fatto venire un dubbio, mi sono chiesto, ma perché mai? Nella mia formazione, prima parlavate di Ivar Oddone, io vorrei aggiungere Mariangela anche Castone Marri a questa cosa, che è stato un sindacalista, io lavoravo con lui in Cigiele Confederale, e lui che mi ha insegnato i rudimenti delle mappe di rischio, dei gruppi omogenei, della salute che non si negozia, eccetera, eccetera. Ecco, voglio dire perché mai? E la mia risposta vi sembrerà paradossale, sono sempre schematico, è che quando c'è bisogno di riformare davvero, alla fine, chissà perché, si preferisce contro-riformare, cioè si preferisce tornare indietro. Allora, tutti gli anni 90, dove ci sono due riforme delle riforme, quella del 92 e quella del 99, l'ossessione che dominava era l'ossessione della sostenibilità finanziaria. E Mariangelo ha accennato, l'ha detto, quando ha parlato appunto di, come dire, di compatibilità, di ossessione della... E il senso comune dominante a sinistra era la compatibilità. Il discorso in quegli anni il più pesante non è stato tanto l'apertura alla privatizzazione, ma lo diceva Mariangelo molto bene, è stato quello, questo non si dice mai, ma si dovrebbe dire per amore della verità, è stato quello di contro-riformare di fatto l'articolo 32, perché l'articolo 32 è stato contro-riformato nel momento in cui tu ammetti che il diritto, tra virgolette, deve essere compatibile con le risorse disponibili, tu hai cambiato l'articolo 32. nel momento in cui tu ammetti i livelli essenziali di assistenza, hai cambiato l'articolo 32. Nel momento in cui immetti le aziende e le aziende sono vincolate all'economicità, tu cambi l'articolo 32 nei fatti. E questo è stato. Quindi noi abbiamo vissuto un periodo dove per rispondere alla sostenibilità sembrava a sinistra che l'unico modo fosse come dire spostarsi verso l'orizzonte neoliberista. Io in quegli anni mi battevo per un'altra strada e dicevo ma guardate che non siamo obbligati a fare le aziende manifatturiere, non siamo obbligati per forza ad accettare l'economicismo, ad accettare la compatibilizzazione, perché poi la compatibilizzazione signori, altro non è che come dire il diritto che si deve adattare al limite economico. C'erano altre strade, io già allora parlavo per esempio di compossibilità, la compossibilità è un'altra idea che non è uguale alla compatibilità, la compossibilità si basa su un ragionamento molto semplice, se tra il diritto e le risorse esistono delle contraddizioni, ripeto contraddizioni, la contraddizione per me è una categoria chiave nel pensiero di sinistra, si rimuovono le contraddizioni e si crea la compossibilità, cioè si fa in modo che tanto il diritto che il limite possano coesistere, mentre invece noi abbiamo preso un'altra strada, il diritto si deve adattare, essere subordinato al limite e da lì è venuto fuori tutto il casino, abbiamo aperto le mutue, abbiamo aperto i fondi, abbiamo fatto le gestioni ibride, private pubbliche e abbiamo fatto il welfare aziendale, abbiamo fatto il welfare aziendale, sì, infatti, che poi è stato perfezionato da Renzi, dal job act, cioè da quegli incentivi dati all'impresa e tra gli incentivi da dare all'impresa per ridurre il costo del lavoro c'era anche il welfare on demanda. Allora, il punto che vorrei discutere un po' è, ma insomma, questo nostro sogno riformatore è proprio impossibile, io non credo che sia impossibile, è possibile, ma con certe idee, con un certo pensiero, cioè non accetto che dobbiamo per forza svoltare verso il neoliberismo, non c'è nessuna evidenza che ci dica che questo lo doveva fare per forza. Chi ci ha detto che dovevamo per forza riaprire le mutue? alle mutue. Non è vero, potevamo prendere altre state, però non le abbiamo prese. Allora, io voglio dire una cosa, Mariangela, alla quale tengo molto. Ovviamente, quando ho scritto questo libro ho testato molti calli nel nostro schieramento e me ne dispiace molto, devo dire. Non dico che ho perso dell'amicizia, ma quasi. Ma fa parte del gioco e non mi pento di quello però a costoro ho sempre detto una cosa, guardate che il limite, il limite culturale, il limite politico non è mai individuale e basta. Cioè io alla Bindi non, personalmente alla Bindi non ha debito nulla. Dico un'altra cosa, dico che ci sono delle fasi, c'è un senso comune, che per migliaia e migliaia di persone tutti si convincono che la soluzione sia una. Quando abbiamo fatto l'azienda, per fare l'azienda c'era un senso comune, si doveva fare l'azienda. A un certo punto la Bindi è capitata per caso, non ha fatto altro che adeguarsi al senso comune. Quindi quando pongo il problema del senso comune a sinistra pongo un problema di crescita culturale perché non ce la faccio se io non mi metto tra virgolette a cercare altre soluzioni. Quindi diciamo che noi abbiamo sbragato aprendo come dire le porte a delle brutte bestie. Abbiamo aperto la porta all'economicismo, non all'economia che è un'altra cosa. Abbiamo aperto le porte al compatibilismo, abbiamo aperto la porta alla privatizzazione, abbiamo praticamente subordinato il diritto. Questo è. Allora a me sarebbe piaciuto questa è un'altra cosa che voglio dire che a questo punto con una pandemia tra le scatole come sinistra si facesse tra virgolette si tirasse una riga e si dicesse ma vediamo un po' com'è andata che si facesse un bilancio che avevamo bisogno di una pandemia per capire che il titolo quinto era una stupidaggine eppure era una stupidaggine. Avevamo bisogno della pandemia per capire che gli accorpamenti anche delle macro aziende erano una stupidaggine. Avevamo bisogno della pandemia per capire che avevamo bisogno di un ruolo più forte dello Stato centrale non meno forte. ecco voglio dire e questo anni fa prima di questo libro io ho scritto un altro libro per me importante perché erano tutte fasi di presa di coscienza che si chiamava il titolo era Il riformista che non c'è cioè il problema nostro è che tu hai per la sanità per forza di cose devi informare sanità e riforma sono la stessa cosa è impensabile perché tu prendi un treno lo metti sul binario 40 anni prima e questo va dritto per la sua strada ogni tanto devi intervenire aggiustare cambia la domanda cambia il contesto sociale cambia la cultura cambia la congiuntura finanziaria se tu non riformi metti in difficoltà la sanità e noi invece cosa abbiamo fatto abbiamo contro riformato abbiamo contro riformato per due volte e creando tra virgolette non so adesso perché poi c'è tutto un combinato disposto le aziende funzionano in un modo i livelli essenziali funzionano in un altro modo eccetera eccetera e quindi abbiamo fatto abbiamo fatto le stupidacce ora vorrevo dire un'altra cosa nel mio libro cito l'ultima le ultime elezioni le ultime elezioni elettorali in Italia del 2018 vi ricordate furono delle elezioni nelle quali il PD fu sconfitto in maniera plateale e io sono stato colpito da quello che ho chiamato anche scherzosamente il cambio dall'anoressia alla bulimia cioè un partito di sinistra che dopo anni e anni e anni di restrizioni finanziarie di definanziamenti di sottofinanziamenti improvvisamente dimentica tutto e comincia a teorizzare il finanziamento al go go dobbiamo ridare soldi commettendo lo stesso fondamentale errore perché io non so ovviamente sono favorevolissimo all'infinanziamento della sanità e questi due miliardi che ha l'immediato speranza mi fanno un gran piacere spero Chiara che vi spenderemo per assumere degli operatori perché questa è la vera la vera priorità spero molto perché col PNR di gente ne assumiamo molto poco è bene che lo sappiate ecco improvvisamente noi abbiamo questo cambio di linea politica dall'economicismo più spinto passiamo a questa prodigalità e abbiamo aumentato parecchio il fondo sanitario adesso abbiamo un bel fondo sanitario non possiamo lamentarci però ecco anche questo senza un pensiero informatore la mia preoccupazione di fondo Mariangela anche perché io nasco da ragazzo nasco con il crollo delle mutue il crollo delle mutue è avvenuto perché è avvenuto sotto i debiti cioè il problema della sostenibilità non ce l'abbiamo solo noi ce l'avevano già ai tempi della mutua noi abbiamo cambiato sistema per ragioni di sostenibilità e la riforma che abbiamo fatto doveva essere la nostra risposta alla sostenibilità di sostenibilità del sistema politico allora io temo che adesso arrivano i soldi mai visti tanti soldi in litania ripeto ne sono molto contento però io temo che senza un progetto di riforma senza un pensiero riformatore si andrà a sbattere di nuovo sui problemi dell'insostenibilità e siccome quando hai problemi di sostenibilità e non hai un pensiero riformatore avanzato l'unica cosa che sai fare è privatizzare temo che ci dia un'altra botta alla sanità pubblica un'altra botta alla sanità pubblica cioè io penso che dobbiamo mettere a punto un sistema più avanzato siccome c'è anche medicina democratica che saluto affettuosamente voglio dire una cosa si parlava Mariangela prima parlava della prevenzione no? allora questa pandemia ha spazzato via i nostri sistemi di prevenzione voi sapete che noi abbiamo i dipartimenti di prevenzione e nel PNRR di Speranza c'è scritto sulla prevenzione dobbiamo incentivare la prevenzione va bene poi Speranza va al G20 sulla salute e ci propone One Health One Health è un'idea di salute globale cioè integrata cioè un'idea di salute che mette insieme l'ambiente mette insieme il mondo del lavoro mette insieme il mondo urbanistico eccetera è un'idea dicono olistica chiaro noi non abbiamo proprio un'idea olistica di prevenzione dal punto di vista istituzionale tant'è che noi abbiamo ancora il ministero dell'ambiente da una parte il ministero della salute dall'altra parte noi abbiamo ancora i dipartimenti di prevenzione da una parte le agenzie per l'ambiente dall'altra quindi voglio dire la pandemia ci dice restite in prevenzione ma ridefinitela la prevenzione perché non potete andare avanti con i sistemi che abbiamo ecco tutto questo non c'è nel PNRR anzi vi devo dire che mi ha molto stupito perché nel PNRR nella parte introduttiva a un certo punto si specificano i settori che devono assolutamente essere riformati che sono tre la pubblica amministrazione la giustizia e la concorrenza non compare la sanità e mi sono chiesto ma perché caspita c'è crollato il mondo addosso e non sentiamo il bisogno di riformare la sanità no non c'è perché la teoria politica di speranza con la quale non sono per niente d'accordo è quella di potenziare quello che c'è cioè la lettura che dà speranza della sanità è questa con la pandemia sono venute fuori le carenze quindi io adesso metto un po' di distretto in più un po' di tecnologia in più qualche letto in più nelle riabilità delle rianimazioni eccetera eccetera e ho risolto il problema non è così non è così noi abbiamo bisogno come il pane di riformare la sanità per rispondere adeguamente non solo alla pandemia ma alle criticità del sistema sanitario finisco qui aggiungendo aggiungendo solo una piccola cosa che nel libro io propongo la quarta riforma la quarta riforma non è una riforma bis, tris eccetera è semplicemente prendere l'auto 133 prenderla in mano fare le cose che non abbiamo fatto perché secondo me abbiamo riformato poco quindi bisogna riformare di più e soprattutto far evolvere il pensiero c'è trovare soluzioni nuove non ho il tempo di parlare di discuterla ma il grande problema del lavoro il grande problema delle prassi il grande problema delle professioni la riforma sanitaria non l'ha affrontato nel 78 e adesso noi lo dobbiamo affrontare mi limito solo a questo che ci sono che ci sono che ci sono che ci sono